Benvenuti nel canale delle notizie napoletane. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. Lozzano vuole tornare al PSV, il Napoli vuole Asensio, l'indiscrezione del Messico. Come rivelato in Messico, Lozzano vorrebbe tornare al PSV. Il Napoli prenderebbe in considerazione la possibilità di sostituirlo con Marco Asensio del Real Madrid. Irving Lozzano non è mai veramente esploso con la maglia azzurra, è arrivato sotto la gestione di Carlo Ancelotti, l'attaccante non si è mai veramente imposto con gli allenatori che si sono succeduti nella panchina azzurra. Non solo con Carletto, Kaki ha incontrato tante difficoltà anche con Giatuso e con Luciano Spalletti ha fatto lo stesso, senza essere mai stato decisivo per la causa partenopea. Lo ha dimostrato in Champions League, quando è stato convocato, non ha mai dimostrato davvero il suo valore. La redazione di Fox Sports Mexico lancia un'indiscrezione sul suo futuro, che deve ancora essere verificata. A quanto pare, Lozzano ha intenzione di tornare al PSV, la squadra olandese che lo ha lanciato in Europa nel grande calcio. Il Napoli sarebbe propenso a cederlo a fine stagione, anche perché resta tra gli stipendi più pesanti dell'intera rosa a disposizione di Spalletti. L'emittente internazionale rivela poi che il club azzurreio ha già in mente il nome del possibile sostituto che potrebbe essere Marco Asensio, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Non dimenticare di iscriverti al canale di notizie del Napoli per gli ultimi aggiornamenti meteo. E se il contenuto ti è piaciuto, lascia il tuo like per supportare il canale e contribuire a diffonderlo a più persone. Il tuo supporto è molto importante per noi.